Qui siamo Agricoltura Capodarco, una cooperativa agricola che si trova a Grotta Ferrata e che nasce dall'esperienza della comune di Capodarco, una realtà che quest'anno fa 50 anni e che nasce proprio dall'idea di creare prospettive, situazioni di lavoro e di accoglienza a persone con diversa disabilità. In questa cooperativa trattiamo quello che noi chiamiamo agricoltura sociale, abbiamo delle produzioni agricole ma la finalità non è solo quella di avere un prodotto commerciale, ma è quello di creare posti e integrazione per persone con disabilità e lo facciamo attraverso l'agricoltura. Tutte le nostre produzioni sono a certificazione biologica, in particolare gli ortaggi con i quali gestiamo sia i nostri punti vendita che i mercati, sono i prodotti che poi vanno sui piatti del nostro ristorante. L'idea è quella del chilometro zero, è quella del rispetto dell'ambiente e quindi la scelta del biologico e quello di produzioni locali con le caratteristiche tipiche. In questo momento come potete vedere è il momento delle zucchine e in particolare dei fiori di zucca, questo è un momento molto molto bello dell'anno chiaramente, si arriva nel periodo glu e quindi è il periodo più ricco, le serre come vedete sono cariche, sono piene ma anche tutti i campi, le insalate, insomma è il periodo migliore. Le insalate sono uno dei nostri punti forza, le facciamo un po' tutte le varietà e in particolare il punto di forza sulle insalate è la loro freschezza, questi prodotti vanno al negozio nel giro di un quarto d'ora, dieci minuti dal taglio. Questa idea del chilometro zero, appunto della vicinanza, del luogo di produzione rimane per noi uno dei punti fondamentali ed uno dei motivi per il quale molti clienti vengono appositamente a fare la spesa qui da noi o a assaggiare i nostri prodotti al ristorante perché la qualità del prodotto e la freschezza e la genuinità sono diciamo tra le nostre caratteristiche più spiccate. Siamo nel punto vendita Capodarco, qui vendiamo i prodotti della nostra azienda, prodotti che passano direttamente dall'orto alla vendita e i nostri prodotti praticamente sono in questo momento le zucchine romanesche, le zucchine verdi, le insalate, la bieta, la cicoria, le cipolline fresche e le fragole. Il nostro prodotto vale doppio perché oltre a essere un prodotto bio è anche un prodotto altamente al valore sociale perché noi sia nei campi che nei negozi, nel ristorante siamo ragazzi con handicap e poi noi siamo attenti a non dare concimi, a non dare diservanti alla soggionalità del prodotto, a dare al cliente un prodotto che vale veramente. Se la gente viene qui perché vuole la zucchina con il fiore fresco, l'insalata appena raccolta, un prodotto che nel supermercato non trova. Stiamo comprando insalata, melanzane, pomodori, verdure, frutta e verdura, guava. I prodotti spesso sono proprio locali, quindi sono coltivati qua e quindi favoriamo il chilometro zero come il consumo. Sono buoni, biologici, controllati, una sicurezza. Beh, proprio per il fatto che poi aiutano questi ragazzi con handicap e quindi danno priorità anche a loro nel mondo del lavoro, comunque si integrano con altre persone. Perché la roba è più buona proprio.